Ma mi spieghi che guardi, che fai? Allora, come al solito sono su Facebook Ma... Ma... Su una delle pagine con i titoli più belli che ci possano essere E quale? Chiamarsi bomber tra amici senza apparenti meriti sportivi La conosco e ci sono delle cose Ovviamente parliamo di argomenti scacciafaica Perché sono prettamente maschili Però è una pagina molto simpatica Quindi parliamo di calcio Ok, che c'è? Ok, che c'è?